Il presidente polacco Andrzej Duda è stato ricevuto mercoledì a Seoul dal suo omologo Yon-Suk Yul. La visita di quattro giorni arriva in un momento in cui la Corea del Sud valuta l'invio di personale in Ucraina. È ormai confermata la presenza di truppe nordcoreane in Russia che preoccupa i governi di Seoul e Varsavia. Contro le minacce poste dai rispettivi vicini, i due paesi hanno deciso di rafforzare la cooperazione militare. La Corea del Sud ha recentemente acquistato droni kamikaze dalla Polonia.